salve a tutti oggi vi commenterò una partita del 1961 e in questa partita si sfidano il nazionale narducci di cui non sappiamo il nome perché non c'è scritto contro il candidato maestro matteo portoghese apertura è la numero 114 una 3 n che comincia con 23 19 9 13 e questo cambio debolissimo 22 18 cattura qua c'è la 12 15 teorica 8 12 10 14 23 20 5 10 e qua il bianco cambia con 26 mentre la teorica era 31 27 partita debolissima per il bianco una delle 3 n più difficili da giocare secondo me qua viene fatta 15 logica del nero il bianco da questo cambio troppo debole e nero fa 59 qua il programma suggerisce 31 27 però ogni mossa ormai è debole quindi il bianco deve sperare soltanto che il nero sbaglia e in qualche modo di recuperare la partita qua viene fatta dal bianco 26 22 qui il nero ha la partita in mano 10 14 29 25 qua però il nero fa il cambio 11 14 che ragazzi è un cambio debole però la partita rimane sempre in vantaggio del nero e da qui si doveva fare cioè come una vittoria molto più semplice 6 10 il bianco qui è costretto a difendere con 31 27 perché se non difende semplicemente perde il pezzo quindi 31 27 bianco è costretto al cambio poi 14 18 l'unico modo per fermarlo è 27 22 e poi da qui mosse di sviluppo ecco il nero faceva dama in un punto molto più libero rispetto al bianco e non solo va pure ad attaccare bianco deve andare qui dopo il cambio vediamo che il nero andrà con due pezzi a dama cioè con un altro pezzo a dama mentre il bianco ha tre pezzi diciamo incastrati in questo punto che anche se vanno avanti qui hanno le linee bloccate quindi vantaggio bianco vantaggio da vittoria comunque dopo il cambio viene fatta 11 14 un altro cambio e il vantaggio del nero diminuisce moltissimo però comunque ha sempre un vantaggio buono un vantaggio che mi permette comunque di avere la partita ancora in mano qua viene fatta 30 26 per difendere diciamo da un possibile attacco in questo punto il nero da questa posizione gioca 9 13 che purtroppo è una mossa debole qua c'è una variante molto più forte con 6 11 32 28 poi 14 18 come detto prima il bianco deve difendersi poi il nero con 11 14 va ad attaccare questo punto il bianco difende poi c'è 37 e qui il nero cioè il bianco è costretto a dare un pezzo o a perderlo comunque perché è costretto a darlo ecco perché qui facciamo una mossa a caso come 13 17 qua per il nero c'è 14 19 e poi 7 12 tiro a 3 quindi comunque il bianco perde sempre comunque un pezzo nulla di tutto questo viene fatta 9 13 che indebolisce moltissimo la partita è il bianco ed è il nero voglio dire però ragazzi qua il nero resta sempre in vantaggio è incredibile perché la posizione è troppo forte cioè una 3 n troppo svantaggiosa per il bianco perché diciamo è qui il bianco per il bianco è facile fare delle imprecisioni invece per il nero ne può fare quante ne vuole e diciamo che rimane pur sempre in vantaggio finché non fa proprio una cavolata proprio grossa invece per il bianco dico che veramente è un'apertura impossibile secondo me questa qua dal bianco viene fatta la debolissima 16 12 il nero non la blocca anche se la mossa migliore 4 8 e gioca a 2 5 qua viene fatta 32 28 ovviamente questa 16 12 viene fatta perché tanto alla 28 alla 23 e poi 23 20 e quasi attuerebbe un cambio per far venire qua una pedina anche se poi non viene fatta questa cosa ma in realtà ecco dopo 59 28 23 qua viene fatta 48 e la mossa suggerita al programma ovviamente 23 20 qua intanto il nero prima della 48 aveva avuto ancora un vantaggio assurdo e con 48 lo perde gran parte però rimane sempre in vantaggio è incredibile quante imprecisioni in questa partita e qui il bianco invece di fare 23 20 gioca 31 28 e il nero con 13 18 va in vantaggio non che prima non lo era ma questa volta è in vantaggio che sta vincendo proprio la partita qui il bianco c'ha 26 22 il nero ovviamente va via poi 22 28 qua doppio attacco il bianco prende da questo lato il nero può scegliere sceglie con la 19 poi 11 7 adesso vediamo che il nero ha un pezzo in più ora il nero attacca la pedina ma l'attacca per prendere posizione poi viene fatta 47 21 26 18 13 26 30 qua viene attaccata con 7 12 qua il nero difende poi viene fatta 13 9 30 26 per minacciare il cambio ovviamente il bianco lo sa si sposta allora 19 14 95 15 19 52 ora qua il nero ha praticamente vinto la partita deve soltanto stare attento a non farsi bloccare questo pezzo ad evitare che il bianco abbia tre dame contro tre e un pezzo bloccato e ha vinto la partita comunque quasi vince ora viene fatta 14 11 qua il bianco avanti il nero vuole impedì i movimenti con 30 26 minaccia il cambio da questo lato e il bianco qua sbaglia sbaglia perché per evitare il cambio cerca di attaccare la pedina ma non evita questo di cambio con 3 7 e da questa posizione il bianco si arrende partita completamente dominata dal nero ma perché la posizione veramente è ingestibile credo che questa è una delle aperture che proprio dovevano essere vietate a prescindere grazie a tutti per la visione vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace ed iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima